fermi dobbiamo stare fermi sguardo bello dritto verso la macchina fotografica si fa presto a dirlo saranno già dieci minuti che stiamo fermi ha fatto tira di nuovo la testa fuori cosa sarà che non va bene chi si è mosso sarà stata la maria quella col caschetto alle mie spalle l'ultima arrivata per di più di mala voglia il laboratorio non ci voleva venire perché dice che se fai la pulitrice è sempre le mani nere e le ragazze con le mani nere non le fa mai ballare nessuno voleva fare la sarta ma valenza di sarte non ce n'è bisogno di pulitrici sì o sarà stato quell'asino di mio figlio qui davanti che con sta testa di capelli lunghi e dritti mi copre tutte le pulitrici là dietro era meglio se stava a casa tanto lui qui ci viene poco e già lui l'orafo non lo vuole fare vuole studiare girare il mondo tanto paga pantalone che poi sarei io ma l'idea della foto l'ha avuta lui e lui che l'ha chiesto il suo amico nicolò scarpa che da un anno ha aperto un laboratorio fotografico in via roma e infatti il suo amico fotografo ha messo l'asino al centro della foto che poi ha fatto bene perché non perché sono suo padre ma bello è bello ha preso da sua madre da me non ha preso niente neanche la voce che io modestamente ce l'ho bella baritonale dicono peccato che in foto non venga ma si vedranno tutti quei bei gessi con i nostri lavori sulla parete là in fondo lì ci sono anche i calchi dei gioielli che facevamo nel laboratorio che avevo prima prima della guerra prima di questa brutta bestia di guerra ma io ho riaperto il vincenzo ceriana non lo fermi e io due anni fa nel 20 ho riaperto e adesso siamo anche più di prima il carlo quello lì davanti col berretto c'era già anche prima e il mio orafo migliore bravo è bravo ma sempre freddo non l'ho mai visto senza cappello e sciarpa neanche ad agosto dice che così non lo mordono le zanzare che poi dico sai che vengono per la foto mettiti un cappello e una sciarpa della stessa trama non uno quadretti e l'altra righe non gli puoi dire niente per niente si imbuffalisce prende se ne va il po a pescare per calmarsi e tu poi lo devi andare a cercare e dirgli scusa scusa carlo torna come faccio senza di te che ora si è fatta le 11 e 30 boia faus abbiamo perso tutta la mattina tra file immobili sul tavolo martelli in silenzio il bilanciere immobile a prendere il sole che se solo penso che portarlo qui ci è voluto quasi maciste e nessuno che soffia nei cannelli per saldare ma quanto mi costa questa foto fra quello che spendo e quello che non guadagno che poi quelli lì che vedranno la foto metti fra cento anni cosa penseranno e guarda la la destra ma che faccia quei due quelli che incassano con i fusi in mano come se avessero la fiamma di una fiaccola accesa animo o la ce l'abbiamo fatta ancora un po e mi cascavano gli occhiali dal naso avevo già paura di dover star qui fermo un'altra ora e per di più senza mangiare proprio oggi che la rina ha fatto il ragù senti che profumo viene dal piano di sopra chissà fra cento anni a valenza come si faranno i gioielli che macchine inventeranno per farli ma io dico che più che le macchine quello che conterà sempre saranno le mani perché per fare i gioielli dovrai sempre usare le mani e non le macchine e noi siamo gli unici che abbiamo le mani d'oro